Cosa è mancato a Modena oggi e quanto ha pensato magari con il primo set perso con Mr.Code a giocare? Ci ammazzano, non so se cosa si può dire, smettiamo un pochino di giocare, non ti so dire il perché sinceramente, peccato perché a Sprazi si è visto anche un bel gioco e quei soliti piccoli errori un po' banali che alla lunga si pagano. In questo momento state giocando anche molto spesso, forse magari anche questo è un fattore che ha influito su questa situazione. Ma lo sapevamo che si giocava ogni tre giorni, quindi è un dato di fatto, ne prendiamo solo atto e non siamo le uniche, non è la prima volta che si gioca ogni due o tre giorni, chiaro che magari siamo un po' più stante delle altre ma non è assolutamente un alibi.